Buongiorno, oggi è domenica 3 maggio, e cominciamo anche oggi questa rassegna stampa domenicale, ma avevamo detto domenica scorsa che sembrava di vivere quasi un tempo sospeso, e in effetti poi la giornata di domenica si è chiusa con la conferenza stampa di Conte sulla oramai famosissima fase 2, e allora oggi questo tempo, visto che si è un po' trasformato, perché non è più un tempo sospeso, o meglio lo ancora, ma insomma è diventato un tempo di vigilia. Tutti i giornali parlano dell'attesa, della fine del cosiddetto isolamento, quello che in un gergo tecnico si chiama lockdown, e questa fine avverrà nella giornata di domani, e questa data del 4 maggio è diventata in qualche modo una data che tutti hanno segnato, cerchiato, immaginato, insomma sottolineato nel calendario. Il 4 maggio è domani, e quindi la fase 2, come si svolgerà, si concentrano oggi i giornali, sono tante le chiavi di lettura dei giornali, perché intanto c'è la cronaca, e quindi le cose che si potranno fare è a partire da domani. Saluto tutti quelli che stanno scrivendo, li ringrazio, saluto Sara, Alessandro e tutti quanti, Marco che vedo collegato, ma dicevo sono tante le chiavi di lettura, le cose che si potranno fare. Ecco su questo in realtà abbiamo passato la settimana a discutere di che cosa esattamente avesse detto Conte nella sua conferenza stampa di domenica scorsa, che è stata molto criticata per la sua vaghezza. Abbiamo bisogno in realtà di piani che diano certezze e questo in effetti è il tema che abbiamo di fronte. Ma su questo in apertura di rassegna e prima di vedere poi essenzialmente due prime pagine e cercare poi di seguire il filo di alcuni articoli, beh devo dirvi, visto che altre volte in questa rassegna ne abbiamo parlato, che intanto forse il riassunto definitivo di quella che è stata la conferenza stampa di Conte Domenica e di quello che ci aspetta per la cosiddetta fase 2 sta nel video finale della saga a fumetti di Zero Calcare che trovate in rete e che è l'ultimo episodio della sua ribibbia quarantena che riassume bene un po' tutti i temi e le sensazioni che abbiamo vissuto e quelle anche che vivremo. Ma insomma Zero Calcare parte proprio nel suo episodio finale della sua saga dal tentare di decifrare la conferenza stampa di Giuseppe Conte. Lo vedrete quel video, ve lo consiglio assolutamente pazzesco, imperdibile, però allora c'è da dire che in soccorso anche della conferenza stampa, dell'intervento del Presidente del Consiglio di fronte alle Aule del Parlamento, di Camera e Senato, ci sono state soprattutto nella giornata di ieri tutta una serie di FAQ, cioè di interpretazione di questo decreto del Presidente del Consiglio di PCM che rilancia anche lei la saga di Zero Calcare che citavo prima, dicevo una serie di interpretazioni autentiche delle cose che si potranno fare o non si potranno fare e anche oggi troviamo sui giornali ad esempio questo mistero dei congiunti, questo tentativo di decifrare che cosa significhi solida relazione affettiva, le interpretazioni naturalmente sono tante, una delle polemiche che è stata indirizzata giustamente secondo me al Presidente del Consiglio è proprio di aver più volte con un po' di burocratese insistito sul termine congiunti dando proprio l'idea di non fare i conti in realtà con una società che dal punto di vista delle relazioni personali, affettive, amorose, anche civili, è molto più avanti di quello che la politica ancora fatichi a metabolizzare. Insomma questa solida relazione affettiva che bisogna capire esattamente che cos'è permette di vedersi ma i giornali ci dicono che invece non possono essere visitati né incontrati gli amici con tutto quello che questo significa. Sappiamo che soprattutto da domani riparte tutta la filiera del lavoro, riparte gran parte della filiera produttiva, saranno praticamente 4 milioni e mezzo le persone che domani torneranno a lavorare in presenza e molti articoli anche sottolineano il fatto in particolare sul manifesto, ma c'è un bell'articolo anche di Gianluca Nicoletti sulla stampa sul fatto che in realtà a fronte di tutte le cose che sono state dette in questa settimana sulla necessità di tenere in disparte, in isolamento, gli ultrasessantenni o comunque senza altro gli ultrasettantenni o comunque la categoria degli anziani, noi invece sappiamo che la gran parte di quei 4 milioni e mezzo di persone che domani torneranno a lavorare in presenza, perché poi naturalmente ci sono quelle che continueranno con il lavoro a distanza e il cosiddetto smart working, sono maschi ultra cinquantenni che risiedono tra l'altro proprio nelle aree più a rischio, le aree più a rischio cioè quelle dove è ancora molto forte la scia del contagio e quindi che corrispondono però come sappiamo anche alle aree più industrializzate del paese, penso alla Lombardia, al Veneto, penso anche all'Emilia Romagna. Tra l'altro sui giornali ci sono anche diverse cose che riguardano ancora la vicenda dell'epidemia, saluto anch'io Giovanni e sottolineo anch'io il suo commento appunto di come la società sia molto più avanti della politica e questo è un bene naturalmente a patto che la politica non chiuda gli occhi e sappia interpretare questa spinta di cambiamento cosa che noi ad esempio nella scorsa legislatura siamo riusciti a fare con la legge sulle unioni civili ogni diritto civile è sempre un diritto sociale, le due cose sono sempre fondamentalmente legate e avremmo voluto se ci fossero state le condizioni anche fare di più ma certamente quella scorsa è stata una legislatura molto importante da questo punto di vista. Dicevo che sui giornali sono molte ancora le notizie che riguardano naturalmente l'epidemia e tra queste c'è anche un caso Piemonte perché i dati che riguardano il Piemonte sono ancora particolarmente allarmanti ma dicevo seguiremo una una traccia soprattutto di approfondimento ma almeno due due prime pagine però le dobbiamo utilizzare allora prendiamo quelle dei due giornali principali innanzitutto Repubblica domenica scorsa abbiamo parlato buongiorno vera abbiamo parlato domenica scorsa del cambio alla direzione di Repubblica e con tutti gli effetti che questo cambio traumatico l'avvicendamento di Molinari che ha preso il posto di Carlo Verdelli quindi un intervento molto forte da parte dei nuovi proprietari Iagnelli, John Elkan e delle ripercussioni che tutto questo può avere sull'assetto politico ma di assetto politico vedremo poi molto brevemente anche se naturalmente anche oggi sono tanti i retroscena che riguardano fondamentalmente ancora molto forte del dibattito sulle dichiarazioni sull'informativa di Giuseppe Conte che c'è stata giovedì alla Camera prima e al Senato poi un dibattito che è stato molto acceso anche oggi ci sono su questo molti dei retroscena noi li vedremo velocemente ma dicevo intanto i titoli Repubblica apre con appunto lo dicevo siamo passati oramai ad un'attesa un po' febbricitante del 4 maggio e allora il titolo della vigilia di Repubblica è virus l'Italia riparte ma i poveri raddoppiano questa è una notizia che seguiremo perché l'abbiamo già letta ieri sui siti è il report della Caritas che ci squaderna davanti una evidenza che in realtà immaginavamo, sapevamo, abbiamo anche toccato molto concretamente nei nostri paesi, nelle nostre città l'intervento dei comuni l'intervento con lo stanziamento da parte del governo di un finanziamento del fondo della protezione civile dedicato proprio all'emergenza, a povertà, alle famiglie che appunto fanno fatica anche ad andare avanti ad avere dei pasti quotidiani le nuove misure, dicevo l'Arme Caritas, in due mesi sempre più richieste di aiuto sul lavoro da casa c'è un altro filone poi vedremo un articolo, su questo c'è anche una proposta di Landini le nuove misure, niente visita agli amici la cosa che citavo prima la Caritas che dice la situazione dei nuovi poveri è sempre più drammatica da prima abbiamo assistito quasi 40.000 in più spiega appunto la Caritas e poi però su questo vedremo perché è uno dei temi di questa nostra chiacchierata di oggi di questa nostra segna stampa di oggi proprio questo però vi avevo promesso un'altra apertura un altro flash di apertura per darci un po' il contesto e l'altro articolo è quello dell'altro giornale più importante che è il Corriere della Sera che titola anch'esso con un titolo forte della vigilia così l'Italia prova a ripartire la fase 2 le regole, norme meno rigide per l'autocertificazione su questo c'è tutto in dibattito e anche qui torna questo tema che comunque pesa molto appunto visite vietate agli amici e viene introdotto un titolo che riguarda il decreto che sarebbe dovuto uscire ad aprile e uscirà nei prossimi giorni quindi sarà a tutti gli effetti un decreto maggio reddito d'emergenza questo ci consente buongiorno Marcella ancora buongiorno a tutti ci consente questo rimando nella prima pagina del Corriere della Sera di parlare immediatamente del nuovo decreto ma prima di questo però permettetemi prima di chiudere questa prima pagina sulla prima pagina del Corriere ci sono due grandi foto una riguarda un autobus sostitutivo della metropolitana a Milano pieno di persone senza di fatto quel distanziamento di almeno un metro che viene richiesto anche se devo dire quasi tutte con le mascherine e sotto invece una foto scattata ieri a Roma in un viale molto importante della città che è il viale Marconi di una zona molto popolosa della città ecco una foto con un marciapiede con tantissima gente in giro e molte persone anche senza mascherina questo è uno dei temi che ci sono negli articoli di oggi cioè fare in modo che ci siano regole ma ci sia anche una responsabilità individuale molto forte per evitare il rischio di un nuovo contagio che significherebbe anche una nuova chiusura che a quel punto dal punto di vista economico sarebbe disastrosa ma dicevo dicevo del decreto il decreto è un grande tema che sta nei giornali di oggi un decreto che sembra finalmente pronto e un decreto che avrà al suo interno una parte molto importante buongiorno Vittorio è una parte molto importante che riguarda appunto gli invisibili coloro che un lavoro non ce l'hanno che quindi in questa fase tra l'altro di blocco non hanno neanche l'opportunità la facilità di un lavoro e quindi il reddito d'emergenza come questo si configuri tutto un altro filone fondamentale sul quale noi tra l'altro stiamo insistendo molto come partito democratico noi anche come gruppo in prima persona è proprio quello del sostegno ad una filiera produttiva importantissima quella delle imprese soprattutto le imprese piccole manifatturiere che fanno più fatica perché già prima che cominciasse la crisi continuamente rischiavano di essere buttate fuori dal circuito produttivo per un'impresa manifatturiera basta perdere un trimestre in termini di perdita di fatturato per vedere a rischio tutta la propria tutta la propria attività e quindi è chiaro che una parte fondamentale di questo decreto dovrà riguardare il sostegno a questa filiera produttiva rafforzare il sostegno al lavoro autonomo delle partite IVA ai lavoratori ai lavoratori delle professioni le professioni cosiddette ordiniste in particolare e sappiamo che la misura che arriverà sarà una misura che da una parte per aprile confermerà il sostegno le 600 euro ma poi nel mese di maggio tutto questo dovrà dovrà rafforzarsi per arrivare a 800 mille euro c'è un grande tema politico è come fare in modo che questi aiuti man mano diventino selettivi e quindi aiutino coloro che realmente ne hanno bisogno e aiutino anche soprattutto il sistema produttivo a riconvertirsi dal punto di vista della innovazione ad esempio con una maggiore capacità poi di stare sul mercato con una ricaduta territoriale importante e come tutto questo appunto possa rafforzare il nostro sistema economico perché il tema della crisi è fondamentalmente dentro questo sconvolgimento anche come fare in modo non solo di preservare il sistema come noi lo abbiamo ma naturalmente di migliorarlo anzi come aggredire quei quei fallimenti quelle cose che non vanno che rendono il nostro paese il suo il suo sistema il suo sistema produttivo ma il suo sistema sociale troppo fragile di fronte appunto alle sfide che noi abbiamo da questo punto di vista oggi c'è un articolo che prendiamo all'inizio anche se è un articolo non di cronaca ma di approfondimento però ci serve per un ragionamento politico sta nell'inserto del corriere quello che si chiama la lettura e è un'intervista a Luca che mi scrive adesso scrive appunto una cosa importante uno dei temi di questo decreto è anche quello che riguarda il rientro dell'attività il cosiddetto reshoring quindi avere anche condizioni per le nostre imprese affinché tutta la filiera produttiva rimanga nel nostro paese questo naturalmente riguarda anche la forza la potenza del nostro made in Italy che è un fattore decisivo per la conquista dei mercati così come uno dei punti su cui stiamo più insistendo come partito democratico è fare in modo che funzioni la liquidità per le imprese sappiamo che in realtà le cose non stanno funzionando come dovrebbero sappiamo che i tassi non sono molto spesso del livello così come è necessario averli abbiamo bisogno di tassi che siano in realtà prossimi allo zero abbiamo bisogno soprattutto di banche che facciano il proprio mestiere a fronte di prestiti garantiti dallo Stato aiutino a tutti gli effetti le imprese ad avere quella liquidità che è assolutamente decisiva per stare in piedi per tamponare adesso l'emergenza e soprattutto poi per ripartire già da domani come abbiamo detto questo questo articolo di Schleidel sulla lettura solo le catastrofi riducono le disparità è un articolo interessante perché parte da un paradosso che è quello contenuto nel titolo che poi si aggancia ad un ad un ad un discorso storico che adesso vedremo solo le catastrofi riducono le disparità in realtà sappiamo che non è così cioè in realtà noi sappiamo che tutte le crisi anche quella che noi stiamo vivendo sono enormi moltiplicatori delle cose che non vanno e quindi ad esempio in una società come la nostra quella di dieci anni dopo il crollo quindi quella finanziaria del 2008 2009 sono crisi che moltiplicano le diseguaglianze moltiplicano le disparità acquiscono che c'è tra pochi più forti che concentrano le ricchezze e invece la gran massa di persone non è un caso che quella crisi negli Stati Uniti vide nascere un movimento civile molto forte del 99% che non si sentiva rappresentato o che comunque si sentiva privato privato di reddito privato di opportunità e che è stata però tanto della mobilitazione perché proprio in quegli anni a Barack Obama ai democratici di tornare al governo su una spinta molto forte dicevo una spinta molto che veniva proprio da una situazione di insofferenza una spinta che i democratici Obama negli Stati Uniti sono stati in grado di interpretare però voglio tornare e sto provando a leggere anche i vostri commenti Stefano Soriano mi chiede sulla scuola e poi dirò nel santo bellatrice shader storico dell'università di Stanford illustra come le pandemie del passato la disparità tra le classi nel lungo periodo e proprio questo è il tema che noi abbiamo la crisi è un moltiplicatore delle diseguaglianze la crisi colpisce di più chi è più debole ma la crisi può dar modo anche alla politica di intervenire oppure no l'intervento ad esempio per rimanere negli Stati Uniti dopo la crisi più evocativa più grande anche della storia contemporanea cioè quella di un secolo fa quella del 29 con appunto i democratici che anche lì vincono le elezioni Roosevelt che diventa presidente e inventa una nuova politica politica economica e riesce a contrastare le diseguaglianze con investimenti pubblici che creano lavoro che creano Stato Sociale in quel caso quindi la crisi ha dato la politica di contrastare le diseguaglianze però ecco nel breve periodo questo questo non avviene e quello che noi siamo a dire è proprio l'immediatezza della crisi e quindi dice dice Scheidel in questa sua intervista la differenza con 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 l'ultima grande pandemia che quella appunto dell'influenza spagnola la prima è che il tasso di mortalità sarà molto più basso cita anche il vaiolo dunque ci saranno conseguenze più limitate sui numeri l'altro l'altro è che la nostra economia oggi è molto diversa anche con più morti la risposta sarebbe una maggiore automazione e non necessariamente salari più alti per la classe operaia questo viene introdotto un tema anche questo molto importante perché stiamo vedendo già adesso come in mancante forza lavoro si risponde con l'automazione in realtà l'automazione modifica l'assetto del mercato del lavoro piuttosto che cancellare il lavoro lo trasforma e per questo è sempre più importante poter studiare e formarsi perché sempre più i nuovi lavori in virtù dell'automazione in virtù dell'innovazione tecnologica legati alle 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 voglio chiudere con questo articolo siamo nella livellatore significa quando le acque si sono calmate ancora non possiamo cadere nel corso di quest'anno le diseguaglianze aumenteranno perché i lavoratori meno protetti perderanno il posto o saranno impiegati per meno ore non avranno lo stesso accesso a internet e alla scuola dubbio che nel breve periodo i più vulnerabili soffriranno molto benché spenda anche da quando ciascun paese riuscirà ad assorbire parte dei problemi il punto è se l'accentuato malessere di una parte della società porterà a cambiare le politiche future io penso che dipenderà dalla gravità della crisi ecco ho voluto citare questo articolo perché secondo me a partire da titolo solo apparentemente paradossale pone il termine politico della crisi come adesso colpo innanzitutto durissimo a coloro che già prima erano o comunque a la e quindi naturalmente tutto il lavoro sommerso in nero anche nel nostro sistema economico esiste e come lo sappiamo e soprattutto nelle regioni più in difficoltà e più forte appunto nelle regioni meridionali ma non solo quindi tutta l'economia sommersa con un contraccolpo molto forte sulla tenuta sociale una crisi che colpisce il lavoro precario quindi il lavoro saltuario il lavoro intermittente in particolare in alcuni settori che più di altri dovranno stare chiusi più a lungo domani 4 milioni e mezzo di persone torneranno a lavorare in presenza domani riaprirà tutta la gran parte della filiera manifatturiera che è uno dei perni del nostro sistema ma noi sappiamo che ad esempio alcuni settori come quello della cultura come quello del turismo riapriranno molto tardi a lungo non ci saranno manifestazioni pubbliche sappiamo che teatri e piazze resteranno chiuse per i grandi eventi estivi e quindi c'è il rischio di perdere migliaia e migliaia di lavoratori della cultura pensiero che sono creatività c'è il rischio di perdere generazioni di talenti su un terreno che molto spesso è fatto di lavori freelance saltuari perché anche nel mondo della cultura sono comunque pochi quelli che lavorano come dipendenti di grandi aziende di grandi teatri di grandi fondazioni la stessa cosa per il turismo che in questi anni è diventato un filone fondamentale della riconversione della nostra economia quindi da questo punto di vista la crisi impatta fortissimo la crisi impatta in maniera molto forte appunto su tutta la filiera dell'imprenditoria e delle professioni e allora questo è il tema di oggi il rischio di una separazione molto forte tra i lavoratori dipendenti o i lavoratori del pubblico e i lavoratori privati non possiamo permetterci in alcun modo per la nostra economia di questa integrazione indissolubilmente anzi questo è il grande tema di come nel nostro paese ancora riescano a fare politiche che tengano insieme ad esempio un pensiero strategico per la produzione industriale per il mercato del lavoro per la pubblica amministrazione per l'alta formazione l'università e la ricerca questa sinergia è decisiva ed è decisiva anche di questa crisi perché il tema di questa crisi non è solamente riuscire a tamponare l'emergenza ma riuscire a pensare il mondo che da questa crisi verrà fuori e del resto appunto è il tema della fase 2 e della ripartenza però questo articolo ci dà la fotografia ma ci dà anche però l'indicazione se la politica fa il suo mestiere allora dalla lezione si può uscire con una società che sia più giusta che contrasti le diseguaglianze che sono uno di questa crisi così così forte che comunque impreparati e allora da questo articolo della lettura voglio arrivare ad avvenire sono tanti i commenti io non riesco a vederli tutti Gabriella e Luca mi sollecitano su questo tema della cultura poi proveremo a tornarci anche perché anzi no facciamolo gli interventi di Luca Guerini e di Gabriella di Gabriella il tema di rimettere al centro la la cultura lo sappiamo potentissimo strumento di crescita economica non solo di crescita di pensiero quindi di fondamentale per la nostra democrazia tenere aperto un teatro significa appunto costruire qualcosa di importante ma noi su questo abbiamo fatto uscire su Left Wing proprio qualche giorno fa un documento primo filmatario Matteo Orfini ma un documento che è frutto anche di uno scambio con esperienze del mondo in particolare dello spettacolo dal vivo per appunto questo filone al centro anche dell'agenda della della politica già subito già in questione e metterlo poi al centro anche della ripartenza nelle prossime settimane sono sui giornali tutte le discussioni anche quelle più politiche che oggi non citerò ma faccio una considerazione non citerò i vari retroscena su anche le divisioni all'interno della maggioranza l'atteggiamento dell'opposizione un punto e lo sottolineo con questa considerazione è chiaro è chiaro che il nostro esperimento di governo ha in questa prova la la sua ragione d'essere e la prova consiste fondamentalmente in due cose la prima salvare quante più persone possibili da un virus pericolosissimo e questo lo dice la Costituzione che il dovere della Repubblica salvaguardare il diritto alla salute il buon senso della politica ed è quello che stiamo provando a fare evitando come invece hanno fatto in altre situazioni di minimizzare il rischio di far finta che non esistesse vediamo che nel nostro paese piangiamo un numero enorme di morti e comunque nel mondo e quindi il primo tema è appunto che non torni il contagio che si abbassi definitivamente il rischio quindi vince la sfida sanitaria ma l'altro grande tema che noi abbiamo è vincere la sfida della della crisi economica naturalmente e quindi la sfida di una questione di una questione sociale che abbiamo di fronte a noi e quindi tutto il resto tutto il chiacchiericcio della politica in realtà non ha non ha molto senso è vero che ha senso se noi se questo governo sarà in grado di avere subito una risposta in Italia e in Europa che permetta di creare di creare lavoro di contrastare le disuguaglianze di puntellare il nostro stato sociale a partire da sanità e di istruzione è un grande tema anche di oggi e molti di voi mi stanno scrivendo su questo anche adesso mentre parliamo e quindi su questo il governo andrà avanti oppure su questo il governo dovrà confrontarsi non tanto con le urla scomposte dell'opposizione ma invece con le richieste della società è questo il criterio che permetterà a questo governo di andare avanti oppure no tutto il resto come si dice non conta avvenire servono risposte subito per gli invisibili citavo prima questa categoria degli invisibili riportando un appello dell'alleanza contro che richiama interventi sulle politiche sociali per la non autosufficienza interventi di contrasto all'indigenza e a tutti che in questa situazione vivono difficoltà moltiplicate i senza dimora c'è una tra l'altro questa crisi ci consegna il tema enorme della solitudine penso alle persone con disabilità alle persone che stanno sole in particolare in particolare ma non solo le persone che vivono un disagio psichico le loro famiglie i irregolari ho citato prima tutto il tema anche che riguarda che riguarda e le famiglie in difficoltà su questo tema delle famiglie ci sono diversi articoli questo è un tema anche importante e io voglio anche dar conto di quello che stiamo facendo in Parlamento ad esempio su questo molto si sta facendo sul tema dei bambini c'è una task force di parlamentari del partito democratico che sta lavorando che sta lavorando dello 06 nelle scuole nelle scuole dell'infanzia intendo dire negli asili e è stato questo tema dal segretario nazionale del PD qualche giorno fa io ho aggiunto a questo tema del piano per l'infanzia anche il tema dell'adolescenza ho aggiunto che ho scritto nei giorni scorsi un'interrogazione parlamentare e ho chiesto ai colleghi del Senato di firmarla insieme a me abbiamo interrogato il il governo per chiedergli con forza varare un piano per l'adolescenza legato soprattutto al tema dell'emarginazione dei dei che sia un'età che già vivono il rischio di emarginazione sociale soprattutto in alcuni quartieri più difficili delle grandi città del sud e incentivare anche misure che riguardano attraverso strumenti di innovazione nel lavoro inclusione attraverso il sostegno all'imprenditoria giovanile già in età in età in età precoce post adolescenziale perché sappiamo che in realtà questo tema della creatività dell'imprenditoria giovanile è uno strumento formidabile di contrasto all'emarginazione sociale di tante ragazze e ragazzi nel nostro paese ancora seguendo questo filone c'è un approfondimento uno in particolare sul manifesto il virus dell'impoverimento raddoppiate le richieste d'aiuto e anche qui c'è il report della quasi 40.000 nuovi poveri che non avevano mai bussato la porta di un centro di distribuzione di una menza o di una carita sparrocchiale e che invece nel mese di aprile sono stati carita fatti di perdita dell'amore o nero ecco il tema di come basta per il lavoro per scivolare sotto la soglia di povertà il divieto che sta per essere tra l'altro reitera anche il divieto assoluto di licenziamento e tutti i sostegni di ammortizzatori sociali che riguardano a partire dalla gas interna che riguardano il lavoro ma dicevo appunto chi perde chi perde il lavoro chi ha un lavoro impossibilitato a pagare ad acquistare farmaci e quindi a curarsi a poter fare a poter fare la spesa da questo articolo del da questo articolo del manifesto passiamo se ci ecco arriviamo a sì mi segnalate questo tema della connessione ma io mi scuso con tutti quanti non so come fare ma spero che riesca a reggere e dicevo arriviamo da questi dati ad alcune considerazioni più politiche e lo facciamo con mi interloquisce su questo tema degli invisibili e dice appunto citavo anch'io prima appunto Roosevelt perché poi perché poi queste crisi sono comunque molto molto simili perché sono crisi che la crisi che stiamo vivendo porta alla perdita di lavoro e alla perdita di fatturato e quindi è molto simile a quella di un secolo fa ecco Rita diceva di come mi è scomparsa il messaggio ma di come appunto Roosevelt quelli che noi oggi chiamiamo gli invisibili li chiamasse i forgotten men gli uomini gli uomini gli uomini dimenticati e questo è un tema che appunto si richiama anche al movimento del 9% di qualche di qualche anno fa ma dicevo cerchiamo di politicizzare e di e di andare avanti veniamo ad alcune interviste politiche ne utilizzo una quella di Massimo Cacciari perché mi serve fondamentalmente per tematizzare questo tema della fase 2 dal punto di vista più politico appunto della strategia che bisogna avere e non solo sul tema autocertificazione chi potremo incontrare e chi no e il tema appunto misterioso della definizione di congiunto e di relazione affettiva su cui tutti noi ci siamo industriati in questi giorni Massimo Cacciari il rischio di tensioni sociali è dietro è dietro è dietro l'angolo Massimo Cacciari interviene su che prende lo stipendio dallo Stato milioni di persone più o meno protette stipendi e pensioni produttivo e industriale che non è più quello di 30 anni fa ma molto ma che potrebbe riprendere c'è una metà di questo paese che è la più direttamente e molte di queste attività si troveranno in difficoltà a riaprire perché riaprire per chi riaprire e cita poi Cacciari ad esempio il turismo e quindi gli albergatori dei bar dei negozi da questo punto di vista uno dei temi su cui stiamo insistendo è fare in modo che nel prossimo decreto ci sia anche una misura accanto a quella della liquidità per le imprese anche una misura a fondo perduto per un recupero un indennizzo di una parte del fatturato che è stato perso per permettere appunto a tutta la nostra filiera produttiva o dei servizi di andare avanti beh l'intervista di Cacciari ci porta e ve la ve la cito naturalmente all'intervista principale che c'è oggi sui giornali che sta sulla stampa molto domenica in riferimento al movimento tellurico che ha colpito l'editoria italiana il cambio di direzione a Repubblica il cambio di direzione poi di conseguenza anche alla stampa con il nuovo direttore Massimo Giannini ciao Claudia grazie anche a te e che stanno seguendo nonostante mi diceva che la connessione non sia fantastica però spero che vada meglio dicevo l'intervista di riferimento oggi sulla stampa è quella al presidente del consiglio che tende a rassicurare che il titolo è l'Italia va non voglio pieni poteri e fa riferimento ad un tema che è stato posto l'intervento in Senato non abbiamo evitato di dare i pieni poteri a Salvini per qualcun altro riferimento era al di là adesso di questo attacco sicuramente eccessivo il tema però della decretazione attraverso i dpcm cioè dei decreti dell'amministrazione di questo si tratta della presidenza su comunque ambiti così impattanti della vita di ognuno di noi quindi limitazioni anche delle libertà per appunto uno stato di eccezione dovuto alla tutela della salute beh tutto questo però richiede richiede noi lo abbiamo lo abbiamo chiesto con forza che tutti gli atti passino in Parlamento tutta questa crisi deve essere parlamentarizzata non può esistere che a decidere siano invece del Parlamento che sono nate oramai in ogni angolo di perché è il Parlamento che invece risposta politica all'emergenza sociale che abbiamo che come dicevo non è nata in queste settimane di crisi ma che ci portiamo dietro da prima ed è frutto di politiche sbagliate e per quello servono invece politiche diverse Conte che esclude in questa sua intervista ce lo dice il titolo una natura di massa patrimoniale in realtà a prescindere da quello che dice Conte trovo questo tema e anche questo modo di porlo molto involuto sempre invece nelle situazioni di crisi noi dobbiamo fare in modo che si ragioni anche su una tassazione che permetta di redistribuire il reddito e quindi che intervenga anche sui patrimoni che molto spesso sono patrimoni speculativi e il tema di far pagare le tasse nel nostro paese alle multinazionali ma anche il tema di far pagare di più i grandi patrimoni non è assolutamente un tema eccentrico non è assolutamente un tema che ostacola la crescita economica ma anzi noi sappiamo che abbiamo bisogno di una redistribuzione per rafforzare anche la nostra economia quindi conte oggi questo tema lo scansa ma io penso che invece il partito democratico debba porre il tema di come avere una redistribuzione a partire anche dalla tassazione dei patrimoni che cosa diversa invece rispetto ai fondamentalmente diversa andiamo andiamo avanti abbastanza velocemente sempre stando sul tema politico c'è un articolo di Repubblica oggi c'è uno degli atlanti di ilvo diamanti che ci danno il consenso dei vari leader politici a partire appunto dal capo del governo e per l'articolo molto lungo di diamanti c'è un approfondimento fatto da due sociologi che si chiamano Roberto Biorcio e Fabio Bordignon il titolo è destra divisa sulla fine del lockdown ma al di là del titolo è interessante anche l'approfondimento che fanno il contesto è quello della fase politica che stiamo vivendo e quindi del piano di graduale riapertura a partire dalla giornata di domani però però ecco il focus è sulle divergenze dell'atteggiamento dei cittadini degli italiani di fronte alle misure del governo e allora tra gli elettori del PD e del Movimento 5 Stelle rimane molto largo stando a questo rilevamento il consenso per l'esecutivo ovviamente per gli elettori di centrodestra ma al di là di questo è interessante cioè al di là della collocazione interesse sociale degli intervistati perché sono largamente favorevoli alle scelte di proposte dal governo di operai gli impiegati ecco quelle fasce protette anche se anche se parliamo di ceto di ceto medio non certo benestante in molti casi però protette appunto è invece un consenso che cala vertiginosamente tra i lavoratori autonomi e i stati più giovani ecco io penso che questa considerazione sia molto importante e che noi dobbiamo evitare di lasciare quel diciamo il dialogo con i lavoratori autonomi e anche l'elettorato più giovane alla destra nel nostro paese sia invece un tema molto importante per il partito democratico e per ecco spero il collegamento sia tornato e allora proviamo proviamo anche a chiudere visto sì lo so Roberta ciao buongiorno buona giornata a tutti quelli che stanno seguendo e ringrazio tutti e tutti mi state scrivendo che ci sono problemi di connessione e allora proviamo a chiudere e vi segnalo molto brevemente alcuni titoli intanto sullo smart working un titolo un titolo di repubblica sul diritto a disconnettersi sugli orari sui buoni pasto su tutte le regole che riguarderanno il lavoro da casa sulla possibilità di utilizzare questa gli strumenti contro la crisi per far emergere il lavoro il lavoro nero c'è un'intervista a Enrico Giovannini che è uno dei protagonisti di questo gruppo che sta pensando la fase 2 che però è anche un importante protagonista presidente dell'alleanza per lo sviluppo per lo sviluppo sostenibile poi ci sono due temi che però devo citare in questa rassegna un tema oggi molto importante che troverete su tutti i giornali è quello che riguarda la scuola io poi vi indicherò in particolare e lo posterò poi tra i nostri commenti un articolo che oggi scrive sul manifesto Daniela Daniela Preziosi e Daniela Preziosi sul manifesto da conto di un'intervista che ieri la ministra dell'istruzione Azzolina ha fatto in tv e in questa intervista ha parlato fondamentalmente di quelli di quelle che saranno i provvedimenti delle prossime settimane che riguardano l'apertura dell'apertura del nuovo anno scolastico ecco la cosa che sconcerta tra le tante è che lo abbia fatto senza che però nulla di tutto questo ad esempio sia 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 nel dibattito parlamentare che stiamo facendo proprio in questi giorni perché noi stiamo discutendo in senato del decreto scuola nel decreto scuola non c'è praticamente nulla di come vogliamo immaginare il nuovo anno scolastico ma questa anticipazione ecco ieri la ministra l'ha data in tv dicendo che alcuni ci sarà una turnazione e quindi alcuni alunni saranno in classe ed altri invece continueranno a seguire da casa alternandosi ecco io trovo io trovo questa impostazione un'impostazione preoccupante così come trovo preoccupante anche la retorica eccessiva che la ministra fa su quanto bene stia funzionando la didattica a distanza la didattica a distanza certo in qualche modo funziona la didattica a distanza sta permettendo di mandare avanti l'anno scolastico è lo strumento che forzosamente attraverso la grande generosità degli insegnanti permette all'anno scolastico di andare avanti ma guai ad utilizzare tutta la retorica sulla didattica a distanza perché la didattica a distanza non è il nostro modello di scuola la didattica a distanza ancora oggi nonostante tutti gli sforzi nonostante lo sforzo delle scuole nonostante gli investimenti che abbiamo fatto per portare connessioni e strumenti lascia fuori dal percorso educativo migliaia e migliaia di ragazzi in particolare quelli che vengono da famiglie che sono maggiormente in difficoltà quindi la didattica a distanza è uno strumento eccezionale che dal quale noi dobbiamo quanto prima uscire per invece tornare alla scuola fatta fatta di confronto di condivisione di partecipazione tra i ragazzi e tra i ragazzi e gli insegnanti per fare questo al tempo dell'emergenza sanitaria c'è bisogno di investimenti per la scuola parola che è completamente mancata ieri tra quelle utilizzate dalla ministra servono più insegnanti servono subito investimenti massicci per l'edilizia scolastica per reinventare il prossimo anno come un anno speciale ma per fare in modo che poi questo anno speciale riscriva le modalità dello stare in classe con più docenti per 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 alunni con un maggiore sostegno ed attenzione ai ragazzi che hanno dei ritardi delle disabilità ma mai anche in una fase di emergenza noi ci possiamo ci possiamo rassegnare a lasciare alternativamente i ragazzi a casa perché questo avrebbe delle ripercussioni enormi l'altra frase sconcertante della della ministra riguarda invece i concorsi un tema sul quale sul quale noi stiamo molto lavorando è quello che riguarda che riguarda la continuità didattica che significa continuità didattica fare in modo che non ci siano continui avvicendamenti da parte dei da parte degli insegnanti perché questo provoca ripercussioni molto forti sull'apprendimento dei ragazzi sull'organizzazione scolastica per avere tutti gli insegnanti in organico in classe dal primo settembre e allora noi dobbiamo stabilizzare i precari era stato stabilito che la stabilizzazione avvenisse per 24.000 precari noi abbiamo chiesto con un emendamento al decreto scuola che questa stabilizzazione ci sia per 40.000 ma soprattutto in vista tenendo conto dell'emergenza sanitaria che c'è pensiamo che la procedura debba essere rivista debba essere semplificata siamo stati accusati dalla ministra invece di mentire spudoratamente su questo sul fatto di poter avere tutti in cattedra dal primo settembre semplificata e questa dialettica così forte la trovate oggi sui 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 l'articolo del manifesto che dicevo ma ci sono articoli su Repubblica ci sono ci sono sul Corriere insomma su tutti i giornali noi per questa stabilizzazione dei precari per la stabilizzazione degli insegnanti specializzati nel sostegno per la riapertura delle gradatorie che permetteranno ai più giovani di far valere i propri titoli per un anno scolastico speciale con più investimenti continueremo a abbatterci nonostante queste uscite abbastanza sconcertanti ed offensive della della ministra chiudo sperando che la connessione nel frattempo sia un po' migliorata perché oggi c'è un'intervista importante su sul Corriere della Sera a Filippo Grandi chi è Filippo Grandi è l'alto commissario dell'ONU per i rifugiati e partendo dal tema dal tema del virus però ci consegna invece il tema dell'emergenza per i rifugiati se non interveniamo ora su guerra ai paesi poveri il virus tornerà a colpirci ricordiamoci che la pandemia è un problema collettivo non solo in termini morali o umanitari se non si prendono misure di contenimento anche in paesi molto lontani può tornare a colpire l'ONU ha pubblicato un appello chiedendo 2 miliardi di dollari per le sue agenzie umanitarie questo è il tema del contagio che arriverà nei nei paesi più 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 deboli in Africa in India con un rischio enorme poi per un contagio di ritorno enorme in termini assoluti in quei paesi e poi per un rischio forte di ritorno anche anche nei nostri paesi ma pone poi grandi il commissario per i rifugiati il tema il tema del diritto di di asilo non va distrutto il sistema dell'accoglienza siamo di fronte a un dilemma se è possibile garantire la salute pubblica e insieme proteggere i rifugiati si possono adottare quarantene controlli sanitari ma il salvataggio in mare resta un imperativo umanitario e un obbligo del diritto internazionale vorrei aggiungere che se oggi avessimo avuto un meccanismo di ricollocazione degli arrivi questo sarebbe stato molto utile ovunque in Europa si registrano moltissimi casi di singoli o di gruppi di rifugiati e richiedenti asilo che contribuiscono a risposta collettiva e noi abbiamo lanciato un'iniziativa con il Consiglio d'Europa per accelerare il riconoscimento delle qualifiche professionali soprattutto in campo medico una specie di passaporto professionale valido per cinque anni col quale le autorità di un paese possono verificare scrupolosamente la preparazione in specifici settori professionali e in ambito medico ecco questa intervista richiama anche una richiesta molto forte che abbiamo fatto per cancellare per cancellare per fare in modo di cancellare i decreti salvini che hanno di fatto distrutto il sistema dell'accoglienza imprendiato sui comuni e poi però una richiesta molto forte che abbiamo fatto a questo governo per mettere da parte il decreto interministeriale che il 7 aprile di fatto impedisce l'accoglienza nel nostro paese violando quella che è la nostra costituzione e violando anche quelli che sono i trattati internazionali a cui abbiamo aderito orgogliosamente aderito da questo punto di vista abbiamo chiesto abbiamo fatto nascere con forza questo governo per una fortissima discontinuità nei confronti di Salvini anche su questo tema che poi è un grande tema anche di sicurezza proprio perché aver distrutto il sistema dell'accoglienza mette a rischio migliaia di migranti richiedenti asilo a rischio di cattura da parte della criminalità organizzata e dicevo su questo c'è un ecco su quello che sta avvenendo c'è un articolo importante di Nello Scavo su Avvenire Nello Scavo un giornalista d'inchiesta che non solo è tra quelli che con più forza hanno denunciato il comportamento della famigerata cosiddetta guardia costiera libica e uno dei suoi capi bigia che in realtà è accusato di essere con prove documentate di essere un trafficante di esseri umani uno schiavista ma quanto questo bigia sia oggi uno degli artefici uno dei capi militari della guerra tra le milizie di Serraji e le milizie di Haftar in Libia quella Libia in cui vengono costretti illegalmente migliaia di migranti ma oggi Scavo porta avanti un altro pezzo delle sue inchieste perché aggiunge al tema della Libia il tema di Malta cioè come Malta illegalmente in questi mesi abbia operato dei respingimenti al di fuori quindi violando quello che è il diritto internazionale atteggiamento particolarmente grave da parte di un paese dell'Unione Europea tra l'altro proprio in queste ore come ricorda anche Scavo nel suo articolo ci sono un barcone con decine di persone proprio a largo delle nostre coste il salvataggio in mare dice l'alto commissario per la protezione delle Nazioni Unite è un imperativo umanitario ed un obbligo del diritto internazionale è questo che sempre e anche in questa fase in questi mesi di emergenza il nostro governo deve onorare chiudiamo la nostra rassegna stampa oggi travagliata da una connessione molto molto difficoltosa con alcune citazioni un'altra ancora sul manifesto c'è un bell'articolo di Francesco Strazzari il titolo è la pericolosa mutazione del virus populista e questo articolo molto ampio che prende le mosse da da quelli che sono da quello che è l'atteggiamento dei leader populisti in tema di pandemia si conclude si conclude in questo modo nel mondo si discute dell'impatto sproporzionatamente pesante della pandemia sulle fasce sociali e questo ha spesso a che vedere con domande che la politica non chiede alla scienza di studiare del resto quanta ricerca può produrre in lockdown una giovane precaria magari con prole e fuorisede immersa in un ambiente che stenta a immaginare percorsi alternativi per le scuole e fatica ad accettare le differenze di genere ecco davanti ai conflitti che si annunciano i meri appelli a scienza e collaborazione internazionale non basteranno la pandemia mostra come libertà e salute e il singolo esistono solo se sono assicurate quelle di tutti a partire da questa declinazione al plurale servono soggetti politici che nell'arena locale nazionale e internazionale siano capaci di investire su spazi di condivisione e responsabilità sociale un patto con le generazioni precarie che riscriva le regole del gioco la chiusura di questo articolo è molto importante politicamente un patto con le generazioni precarie che riscriva le regole del gioco è un po' la conclusione di questa politica di questa nostra rassegna e allora fatemi soltanto citare un articolo molto bello di repertorio ma oggi è domenica e ci sta è un'intervista che un grande giornalista Valentino Parlato storico fondatore del manifesto a lungo anche direttore del manifesto scomparso tre anni fa fece nel 1979 a un leggendario economista Federico Caffè su cui tantissimo è stato scritto una figura leggendaria e questa intervista è di molti anni fa è del 1979 perché il 1979 torniamo anche al filo conduttore di una parte dei nostri ragionamenti alla crisi del 29 perché appunto il 79 era il cinquantennale di quella crisi e nel 1979 Valentino Parlato intervista sul manifesto Federico Caffè e Federico Caffè fa delle considerazioni che a leggerle adesso sembrano assolutamente assolutamente profetiche chenesiano chenesiano protagonista di una grande battaglia di idee in quegli anni dice Federico Caffè mi rendo conto che il 1929 per i suoi aspetti vistosi anche folcloristici eserciti grandi suggestioni il crollo di borsa la gente che si buttava di sotto dalle finestre dei grattacieli Galbraith ha dimostrato poi che quasi nessuno si era buttato giù dai grattacieli ma è vero che dopo il 29 i vetri dei grattacieli sono fissi ma è ancor più vero che i capitalisti vittime del crollo di borsa in un modo o nell'altro se la sono cavata mentre a star male sul serio e a lungo sono state le masse rurali e i lavoratori e dice poi Federico Caffè noi siamo già dentro a Valentino parlato che gli chiede se arriverà un nuovo 1929 dice noi siamo già dentro un nuovo 1929 ci viviamo dentro tutti gli aspetti patologici del 29 fanno parte della nostra esperienza non nelle forme catastrofiche di allora ma in modo endemico la disoccupazione che prevede 18 milioni di persone senza lavoro nei paesi industrializzati oltre quasi 700 milioni di uomini che vivono in condizioni di assoluta povertà povertà diffusa che fa perfettamente riscontro con povertà diffusa che fa perfettamente riscontro con condizioni di deperimento e di sottoalimentazione e è abbastanza impressionante questa questa lettura e si letta anche con gli occhiali di oggi occhiali di oggi che noi indossiamo con le parole e con la lente di ingrandimento di uno scrittore di un giornalista di un osservatore della nostra società che scrive su un blog letterario che a me piace molto e ogni tanto lo cito ed è la conclusione di oggi questo blog si chiama Nazione indiana e Giuseppe Acconcia tiene un tacquino della quarantena che oggi è particolarmente ricco particolarmente intenso e che racchiude un po' anche i tanti giornate un po' strane che stiamo vivendo tra un lavoro da reinventare film e telefilm serie televisive viste a pezzi video chat su zoom e skype e poi e poi insomma l'attenzione l'attenzione per quello che sta per quello che sta che sta che sta per quello che sta avvenendo e allora voglio chiudere visto che visto che è domenica con questa citazione da questo suo tacquino di sicuro questa quarantena ha risvegliato in me la voglia di cucinare che avevo davvero perso negli ultimi anni piatti veloci e piccole bettole sono state la mia pratica quotidiana ultimamente invece in questi giorni ho ritrovato il gusto di prendere del tempo per pensare a piatti che prima cucinavo e cucinavo spesso preparo gli ingredienti li cerco nel fugace tempo che dedico alla spesa distribuendo i pasti nei tanti giorni che passano tra un'uscita e un'altra solo per gli acquisti settimanali nello spaccio sotto casa mi dedico al soffritto a sbucciare la verdura a condire piatti che da tempo non preparavo i miei amici e familiari ormai si dedicano a piatti sofisticati davvero notevoli io non arriverò mai a quei livelli i segreti culinari di famiglia e amici di vecchia data e non sono pochi e con con questa con questa citazione e con Giuseppe Acconcia intento in cucina come è capitato anche a gran parte di noi che in realtà in cucina sono abbastanza maldestri però in questi giorni di quarantena chiudiamo questa questa rassegna stampa sperando appunto come abbiamo detto all'inizio che il tempo che domani 4 maggio comincia sia davvero il tempo di una ripartenza molto forte di una politica molto forte che sappia caricarsi l'ansia di farcela di chi è più debole di chi non vuole rinunciare a realizzare il proprio sogno perché questo è il tema principale dei prossimi giorni per tutti noi e per il lavoro che stiamo facendo insieme buona domenica e grazie a tutti e grazie a tutti